ciao socio siamo allegri oggi sto imparando a ballare senti ciccio ti devo dire una cosa me la dirai più in là ciccio ti devo dire una cosa più in là ciccio ti devo dire una cosa è più in là e più in là vado a finire attraverso i muro e me la dirai più tardi più tardi però pensiamo ai risultati pensiamo ai risultati sono sicuro che col mio sistemino di 600 lire questa settimana diventeremo milionari ha dato i risultati no ancora no col tuo sistema ci sistemeremo però non è infallibile beh non esistono sistema infallibile esistono esistono ciccio esistono e chi ce l'ha ne ho uno io infallibile sicuro sicurissimo e perché non me l'hai detto prima l'ho perfezionato sta mattina aspetta sei sicuro quello che dici sicurissimo che c'è dai di che si tratta aspetta aspetta i muri non hanno orecchi ma sentono sbrigati aspetta quante sono le partite 13 prima partita scrive 1 x 2 3 seconda partita 1 x 2 scrive scrive e così con la quarta partita con la quinta con la sesta con la settima con l'ottava con la nona con la decima e cos'è via tutte 13 partite 1 x 2 1 x 2 e così ci vuole un miliardo tu metti i soldi e io metto il sistema il braccio e la metti senti tu non sai una cosa e non la voglio sapere piuttosto alza la ragione no 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 alza il volume perché non parli prima più alto più alto più alto e dove vado a finire nooo ho capito vai hai detto il volume ho capito ho capito zitto eh che bella mosseghetta io qui ho appuntato tutti i risultati io invece conosco un appuntato un amico amico c'è via dodicesima giornata del girone di ritorno risultati finali a Firenze Fiorentina batte Spau 1 a 0 1 a Bergamo Atalanta e Lanerossi Vicenza 2 a 2 2 a Milano Milan e Inter 0 a 0 3 a Torino Juventus batte Messina 1 a 0 scusi che ha segnato Sibori su azione che c'è scritto qua non c'era scritto a Catania Catania e Lazio 1 a 1 armi già venduto armi già venduto ha fatto pareggiare il Catania zitto incosciente se non pareggiare il Catania qui non avremmo fatto 5 capisci prego continui allora vai avanti c'è scusi posso? si a Bologna Bologna batte Torino 2 a 1 si si a Genova Sampdoria batte Mantua 3 a 2 7 7 la stella dell'osso maggiore 7 si 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 scusi mi scusi 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 come hai detto stavo dicendo a Roma Roma batte Bari 1 a 0 ma insomma la volete definire si o no? eh scusi ma non zarrarvi però perchè noi paghiamo il canono va bene se lei ha qualcosa da dire venga fuori dalla radio io gli stacco la valvola grazie 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 grazie